Il collasso ipocalcemico. Il collasso ipocalcemico, collasso perporale, ha mille nomi, è una delle tante espressioni della vacca terra. Non esiste solo quello. Fa parte dei disordini del metabolismo minerale. Vale a dire, il calcio è presente a livello ematico nel sangue, siccome nel colostro che va e che sta creando quella bovina rossa che avete visto, c'è una grandissima quantità di calcio, le riserve di calcio organico vengono canalizzate in mammella e la bovina inizia a avere un calo del livello di calcio nel sangue. Il calcio nelle sue funzioni dell'organismo, nelle funzioni vitali, presiede ad esempio alla contrazione muscolare, presiede alla conducibilità nervosa, per cui io decido che devo alzare il braccio, parte un impulso nervoso che fa liberare del calcio a livello di placca neuromuscolare, la conduzione dell'impulso nervoso è mediata dal calcio, da rilasciamento più o meno di calcio, quindi il calcio è un minerale che interviene nella conducibilità nervosa, nella contrazione muscolare, se viene meno hai debolezza. Nella bovina da latte, alla prima mungitura, voi depauperate con la mammella il calcio presente in mammella e lei va subito a ricompensare per produrre latte riempendo la mammella e quindi ho un completo deviazione del calcio a livello organico in mammella. Quindi il livello del calcio in tutte le vacche, in tutte le vacche da latte del mondo, scende. Non c'è nessuna vacca che al momento del parto gli sale il calcio a livello di sangue, in tutte scende. È chiaro che il livello di caduta del calcio è quello che condiziona poi la patologia o no. Quindi non è che tutte vanno a terra, tutte hanno ipocalcemia. Alcune avranno un'ipocalcemia lieve, quindi sarà compensata, altre non l'avranno. E per questo c'è un meccanismo ormonale che non vi posso spiegare oggi, ma che se volete approfondite, ma che è più un meccanismo di tipo scientifico-medico, se vogliamo affrontarlo. Per cui questa qua, quel soggetto che avete visto, è una bovina che era di quarto parto, collasso ipocalcemico a terra, poi ci sono tutta una serie di terapie di cura o di prevenzione che fanno sì che l'animale riprenda. Come vi ho detto prima, rientrano nei disordini del metabolismo minerale e segnatamente questo è l'ipocalcemia. Vi ho anche citato prima due o tre aspetti, che è, ma cosa avviene nelle stalle? Cioè io ho un collasso, no? La prima, una delle slide diceva, è normale se io ho meno di due collassi su 100 vacche. Ma se ho due collassi in un anno, è il mio reale problema? No, abbiamo definito che due collassi in un anno non sono un problema, ma i miei due collassi sono la percezione clinica di un problema. Cioè ne ho due, li ho visti, sono andati a terra. In realtà, in biologia, non abbiamo mai una netta separazione tra ciò che è sano e ciò che è malato, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Cioè è una variabilità. Quindi noi dobbiamo sempre pensare alle malattie con questo schema. Cioè un animale clinicamente affetto, ipocalcemia clinica vacca a terra, nasconde sotto di sé, fate finta che sia il famoso linea di galleggiamento dell'iceberg, una quantità di animali che hanno un problema subclinico. Cioè che non vanno a terra ma traballano. Non vanno a terra ma hanno un po' di ipocalcemia. E questo ha delle conseguenze subdole che non vi posso stare a spiegare oggi. Quindi, se vogliamo renderla un po' più complicata, il calcio va in mammella, io mungo la mammella, dall'organismo viene richiamato il calcio. E queste sono le curve di quello che è il calcio. In una vacca che ha un lieve abbassamento di calcio, che è questa verde, e poi vedete che lo recupera dopo 3-4 giorni, qui abbiamo i giorni del periodo, 0, 1, 2, 3, e quindi in quarta-quinta giornata il calcio torna a livelli quasi normali. E qui invece abbiamo una vacca che ha una grave forma di ipocalcemia, dove il calcio, qui abbiamo un 4,5, si è quasi dimezzato rispetto al 9, che sono il parametro di riferimento del calcio a livello del sangue. Va a terra quella con la linea rossa? Non necessariamente. Se va a terra è clinica, se non va a terra è subclinica. E noi come facciamo a sapere se una vacca è in ipocalcemia? Primo, tutte le vacche vanno in ipocalcemia. Ve l'ho detto prima. Quindi sì, è in ipocalcemia. Quanto? Bisognerebbe misurarlo. Siccome però gran parte delle vacche vanno in ipocalcemia, oggigiorno ci sono dei sistemi per compensare alla cieca questa situazione metabolica. ad esempio tramite una supplementazione di calcio per via orale, che si può dare quindi per bocca, al fine di far sì che la bovina venga a ristabilire il calcio nel più breve tempo possibile. Lo scheletrino è perché la mobilizzazione del calcio avviene dalla più grossa riserva di calcio che l'organismo ha, che sono le ossa. A livello delle ossa la vacca ha la deposizione del calcio del fosforo in grandissima quantità, ed è da lì che attinge dopo il parto. non gli arriva soltanto dalla bocca, lei attinge il calcio dalle ossa. E per mobilizzare il calcio dalle ossa mette in atto un meccanismo di tipo ormonale che inizia già nei giorni precedenti il parto. Poi il calcio gli arriva con l'alimentazione. Una vacca che partorisce e va a mangiare ingerisce calcio se noi apportiamo il calcio nella razione. È logico che vedete come noi siamo i responsabili della salute degli animali perché se noi facciamo degli errori nutrizionali nella fase di asciutta o se facciamo degli errori nutrizionali nel periparto siamo noi che causiamo un'ipocalcemia scompensata nell'animale e ne induciamo il rischio che va da terra. Per cui quando in allevamento il livello di patologia supera certi livelli la colpa non è della vacca è la colpa generalmente dell'uomo. Ci sono delle situazioni del tutto particolari dove una vacca che partorisce di 13 anni non può avere un metabolismo rapido come una bovina che è in prima o seconda lattazione. Per cui a seconda della categoria degli animali che va a partorire abbiamo una storia precedente degli anni precedenti e quindi vedete come nell'allevamento bovino c'è ancora un intervento sul singolo rispetto all'allevamento di polli, di conigli o di maiali dove l'attenzione al singolo animale è un po' persa negli ultimi anni. E questo è un altro dato da tenere in considerazione tant'è che la bovina che è nel box giù noi sappiamo già io e la famiglia Goldoni che l'anno scorso e l'anno prima ci ha fatto una dislocazione della bomaso. Quindi tutto quello che noi dovremmo fare oggi non è aspettare che si dislochi è mettere in atto tutta una serie di eventi preventivi affinché lei partorisca nella maniera migliore possibile. Il rischio dell'ipocalcemia l'ho appena introdotto e soprattutto nelle pluripare. Dell'ipocalcemia subclinica ne ho già parlato quella clinica se la volete approfondire c'è il filmato dove faccio vedere tutta la sequenza e lì me la sono giocata perché io non sapevo se la vacca si sarebbe ripresa o no. Ho detto facciamo un video sull'ipocalcemia sono arrivato l'allevatore non è che la godesse molto quel video lì però ho detto dai se si riprende passa la storia. La vacca c'è ancora il filmato è di due o tre anni fa l'ho vista l'altro ieri sta benissimo era un'ipocalcemia classica se l'ho portato il sangue in laboratorio ho misurato il calcio al telefono con loro delegate le terapie la vacca si è ripresa tutto bene e lei vive i vegetali sane in allevamento e si è ripresa ma lei è una vacca predisposta a farmi il collasso ipocalcemico quindi lei quando adesso è già gravida arriverà il prossimo parto ne ha già fatto uno nel frattempo rispetto a questo collasso lei dovrà avere delle attenzioni particolari domande sull'ipocalcemia non può essere tutto chiaro dai una tanto non vi sentono là c'è il microfono prendo dare i boli li aiuta? allora la domanda è molto pertinente se dare dei boli di calcio li aiuta? sì nel senso che negli ultimi anni c'è una pratica di somministrare del calcio per violare nell'immediato per il parto che significa che se uno è molto bravo identifica il parto circa 12 ore prima che avvenga quindi dare alla vacca giù in prossimità del parto un bolo di calcio fa sì che a livello di calcio che è prontamente disponibile quindi da una parte lo perde col colostro dall'altra io glielo ho già dato per bocca quindi quella curva che voi avete visto che crollava nettamente il livello di calcio questa rossa io riesco a mantenerla più sulla verde che sulla rossa perché questi boli sono fatti in un modo tale che rilasciano il calcio in 12-24 ore quindi io glielo do adesso lei partorisce stanotte domani mattina gli ridò il calcio domani la sera gli ridò un bollo di calcio riesco a mantenere il calcio alto in quei due o tre giorni che sono i maggiori giorni a rischio in realtà ti ringrazio della domanda perché questa è già una prevenzione last minute cioè è già una prevenzione quando tu non sei tranquillo di aver fatto tutto bene il fare tutto bene parte da prima cioè il fare tutto bene parte da qui dalla corretta alimentazione durante la fase d'asciutta e soprattutto durante gli ultimi 15 giorni prima del parto perché perché le asciutte sono separate perché alla domanda vostra non stanno insieme al pascolo le dobbiamo riseparare quando tornano in stalla perché la loro alimentazione è diversa per paradosso e capisco che possa essere anche un po' difficile da comprendere la vacca in asciutta deve mangiare poco calcio perché? perché mangiando poco calcio il suo organismo ha una spia che dice c'è poco calcio ho il vitello che sta crescendo devo iniziare a preparare la mammella devo iniziare a mobilizzare il calcio dalle ossa e quando arrivo al parto il mio meccanismo ormonale è già partito e io sono già pronta a mobilizzare il calcio se invece io mangio tanto calcio fino al parto calcio in abbondanza come si sta bene tutto sto calcio e partorisco di punto in bianco mi trovo senza il calcio e non ho attivato il meccanismo ormonale che mi permette di rilasciare il calcio a livello osseo e quindi mi trovo di punto in bianco sguarnito di calcio boom il calcio va giù io vado a terra quindi nelle concezioni attuali dell'alimentazione della vacchina asciutta viene tolto l'alimento ricco di calcio per eccellenza che è l'erba medica in realtà negli ultimi anni non si è dato al calcio questo importante aspetto si è guardato molto di più ai livelli di potassio vale a dire in asciutta devono esserci dei livelli di potassio di relazione bassa ma qui sto iniziando ad entrare troppo nel tecnicismo e mi fermerei quello che è importante è che nel corso degli ultimi 30 anni le andette di tutti i colori e probabilmente ancora alcune cose cambieranno si è passati prima da una restrizione di calcio nella razionamento d'asciutta a parlare poi oggi a una restrizione del potassio nella razione d'asciutta e sembra questa essere la verità più importante voi sapete che la scienza va avanti quindi magari tra dieci anni dicono Marmiroli nel video di youtube ha detto una serie di stupidate bisogna dare tanto calcio tanto potassio esiste la pillola magica che risolve il problema dell'ipocalcemia quindi sostanzialmente vi ho detto l'ipocalcemia affonda le sue radici durante l'asciutta e durante il preparto salvo dei soggetti particolarmente anziani e predisposti al problema altre domande sull'ipocalcemia? professore è troppo tecnica o va bene? a vero a vero